Avviare il percorso degli Stati Generali e allora, anziché decidere autonomamente come lo Statuto prevederebbe, ho avviato un percorso di confronto con tutte le varie realtà del Movimento 5 Stelle. Iniziando oggi con un'assemblea congiunta del Parlamento, Camera e Senato, coinvolgendo i due capigruppo che hanno deciso di coinvolgere ovviamente le assemblee parlamentari. In questa assemblea abbiamo discusso dei possibili percorsi che possiamo avviare nel più breve tempo possibile per arrivare a una nuova governanza del Movimento 5 Stelle e per andare a discutere dei temi e del futuro del Movimento 5 Stelle e del Paese anche perché non è solo il Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo fatto semplicemente discutendo del metodo e del percorso che possiamo fare nei prossimi giorni che parte da un criterio che è quello del coinvolgimento della nostra assemblea degli iscritti da cui non si può prescindere. Questo lo dico e lo ribadisco qui.